Ormai basta comprare un qualsiasi rivista dove praticamente escono dei nomi particolari su alcuni tipi di alimentazione, la dieta del riso, la dieta della mela, la dieta della banana, che sono dei regimi alimentari che non hanno nessuna validità scientifica e vengono presi in considerazione da tantissimi pazienti che però non conoscono bene il loro stato di salute e quindi non sanno se è possibile effettuare dei regimi alimentari non controllati. Spesso e volentieri vengono seguite anche per moda delle alimentazioni particolarmente restrittive, per esempio un esempio banale, se noi eseguiamo un'alimentazione che manda in chetosi, questo tipo di alimentazione non può essere eseguita da tutti i pazienti, i pazienti che hanno problemi cardiopatici o problemi di colesterolemia, spesso e volentieri affrontando questo regime alimentare possono perdere peso ma accentuano i loro disagi, i problemi di salute. Per esempio sempre nella dieta chetogenica se viene effettuata da un paziente che ha un diabete di tipo 1 può causare dei danni veramente importanti perché in poche parole tutta la terapia farmacologica può essere inibita da questo tipo di alimentazione. Quindi le diete è un argomento da prendere non sotto gamba ma è un argomento che deve essere affrontato considerando che non tutte le diete vanno bene per tutte le persone. Quindi il consiglio che do sempre è che se abbiamo una patologia ben certificata, ben classificata non è detto che quel tipo di alimentazione possa avere dei benefici, anzi può spesso e volentieri creare dei danni. Quindi è sempre molto importante avere un'anamnisi ben precisa del problema e poi affidarsi a persone qualificate per l'alimentazione, l'integrazione e anche l'attività fisica. L'errore principale è che se una persona fa un'alimentazione anche se per un piccolo lasso di tempo con planente restrittiva, nel momento in cui poi va a rimangiare rimette i chili che ha perso con la stessa velocità con la quale le ha persi. Quindi sono uno stress che il corpo deve subire però senza avere nessun beneficio se non un effetto estetico momentaneo che poi si va a dissipare nel corso del tempo.